Condividere buoni pasto per permettere a tutti i bambini di mangiare nella mensa scolastica è la singolare e solidale iniziativa messa in campo da alcuni genitori dell'istituto comprensivo Radice Ovidio di Sulmona. In attesa della seduta del Consiglio Comunale che sospenderà formalmente la delibera sull'aumento delle tariffe, le famiglie che conservavano i vecchi taglianti utilizzabili li hanno prestati a coloro che ne hanno la necessità perché tutti possano sedere nella stessa mensa senza ricorrere a pranzi al sacco ad altri rimedi. A farlo sapere in una nota sono stati rappresentanti dei genitori del Consiglio d'Istituto del Radice Ovidio. In questi giorni nel nostro istituto, raccontano i genitori, stiamo assistendo a una gara di solidarietà tra i genitori promossa dai rappresentanti di classe che stanno mettendo a disposizione i buoni pasto acquistati prima del cambio di tariffazione per evitare che alcune famiglie si trovino costrette ad acquistarli a prezzo maggiorato. A breve sarà concordata una data per incontrare i rappresentanti di classe e discutere in merito alla nuova suddivisione delle fasce di reddito che determineranno la tariffazione dei buoni mensa per il prossimo anno scolastico e recarci all'incontro promosso dall'amministrazione comunale con un'idea condivisa e partecipata. Siamo stati eletti al Consiglio d'Istituto con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola e ampliare il senso di comunità. Se ci siamo riusciti è stato proprio grazie al lavoro dei rappresentanti di classe e ai genitori che hanno condiviso la nostra idea di scuola una comunità impegnata nel raggiungimento del medesimo obiettivo Il bene dei nostri figli conclude la nota.